Il tuo nome? Simona La tua età? 28 Segno zodiacale Acquario Ti rispecchi in questo segno? Mi rispecchio, però ho sempre qualcosa da dire Sempre Ovvero? Ovvero che anche se trovo delle linee generali congruenti con il mio carattere Preferisco specificare quello che sono Perché ci tengo Specifichiamo i tuoi interessi allora Mi piace ricamare A intaglio Mi piace cucinare Se avessi un moroso mi piacerebbe dedicarmi a un moroso E poi mi piace l'idea di fare carriera Anche se non ho un lavoro adesso Film preferito? Film preferito? Seabiscuit Non lo conoscerà nessuno È un film sui cavalli Dicci qualcosa su di te? Dicono che sono troppo severa Non è così Però sicuramente so quello che voglio E quindi probabilmente per gli altri diventa un concetto di severità Ma non è così Sono molto dolce Ci tengo a specificarlo Tra i gioielli brosway Qual è il gioiello che ti piace di più? Io adoro le collane E i collier Pensi di essere un tipo brosway? Potrei esserlo quando non è nelle versioni troppo etniche Grazie mille 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 Grazie mille